e quindi porca puttana ma non capisco tutto qua però la barra sotto più avanti ok beh gente quindi se attraverso c'è la strega oh che paura e questa farsa così da niente di niente ma no non è ma allora c'è già la strega ma dov'è eccola no questa si sparisce ah evoca quelle aia aia mamma mia che ti faccio boh boh 100 di danno no 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 mamma mia vi distruggo liscio 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 e dai oh non ho finito l'energia dov'è la vecchia maledetta boom eccola ti distruggo boh non le ho fatto niente oh si che le ho fatto ma non cala la vita ma perché ma non era lei era finta eccola no no ma non le faccio danno non capisco ma le poi liscio sempre no scemo non ti siede senti io provo ad andare un attimo qui a capire perché c'è sto rialzo così per sport si ma io continuo a non capire che cacchio devo fare perché la vecchia non gli faccio più danno ma non è che si è buggato ma no dai ci sarà qualcosa che non capisco al momento niente non però la luce è lì sei te allora sei maledetta perché ce ne stanno due di cose adesso lì mamma mia oddio ne stanno sfornando tantissime devo andare lì su sicuro eccoti muori ole grande forse mi sono un po' troppo overpotenziato comunque l'abbiamo battuta la strega di è stato abbastanza easy era difficile capire gli inganni ma alla fine abbiamo trionfato ottimo la strega di lì 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 è stato un po' Grazie a tutti.